Tutti grandi, un saluto a tutti i grandissimi lettori di One Piece che seguono il manga a stelle e strisce. Ora, volevo dirvi che l'ammiraglio Grimble è un grandissimo, grandissimo ammiraglio e agirà nell'ombra contro di Luffy. C'è un'alta possibilità che possa girarlo da dietro e possa infilarlo con uno dei suoi pungiglioni di pianta carnivora. Ma attenzione, l'ammiraglio Grimble ha completamente azzerato King e Queen che avevano recuperato dopo sette giorni con il loro zone mitologico full di energy. Loro avevano l'abilitability di high recovery, potevano recuperare le energie veramente, veramente velocemente. Sono dei come Jack, molto più di Jack, è l'immortale, Queen è un dottore specializzato in cuore, in veleni, King è l'immortale di fuoco. C'era la fiamma rigeneratrice, c'era qualche fiamma rigeneratrice anche lui, tutti dicono che non possono colpirlo. In sette giorni, senza Gamaldolite, lasciavano nascondersi a recuperare. Sette giorni per recuperare, sette giorni, come dice la Bibbia, non si è fatto il mondo e non ritornavano in forze King e Queen. Quindi, non erano in prigione, chi le ha messe in prigione? Non ci sono prove che erano in prigione, non ci sono prove che avessero la Gamaldolite, che avessero alcuna Gamaldolite attaccata, non si vede alcuna Gamaldolite. King e Queen erano full recovery e sono stati completamente zerati da un one-shotati da Ammiraglio Grimble. Come Kizaru ha one-shotato i nuovi bimbetti Drake, Luffy al suo tempo, e come Akaino ha shotato altri, come Akai Akoichi ha shotato Luffy all'inizio e ghiacciava qualunque cosa. O ha one-shotato Doflamingo in Punk Hazard. Gli Ammiragli sono estremamente forti, non a livello degli Imperatori, ma li superano di gran lunga i Commander, che voi chiamate i Commanders. C'è una grande differenza tra i Commander di vecchia generazione, quindi i Pirati Shanks di Goldilogger, Raleigh e questi qua di oggi. Capito? Il Kaido era il più scarso Imperatore. I Topi Rop erano scarsissimi. Capito? Scarsi, sono stati fatti fuori senza difficoltà da Jinbei e gli altri. Franky non ha dovuto usare nemmeno, nemmeno, nemmeno Full Strength per abbatterlo, capito? Rino e Ceronte. Capito? Erano gli scontricci, scontrucci, dovete capire questo. Kaido aveva una ciurma di idioti e di livello inferiore, infimo. Non sapete cosa significa infimo? Andate da Somobut, da Caverna di Platone e scopritelo. Che non usano mai il congiuntivo. Dicono che succede di One Piece? Non lo sappiamo. Dovrebbero dire che cosa succeda. Qualunque cosa succede. Usano il presente tense, il presente simple, il presente indicativo, invece del congiuntivo. Che dovrebbe essere il modico e tutti dovrebbero usare.